Ciao a tutti, benvenuti nel mondo Scott. Siamo qui a presentare oggi la Ultra Carbon RC, una scarpa da trail per medie e lunghe distanze, ovviamente piastrata in carbonio. La particolarità di questa scarpa è appunto la piastra annegata nell'intersuola, quindi tra un pane di kinetic light foam e areofoam, che è il materiale dell'intersuola appunto. e la particolarità di questa piastra appunto è che ha una geometria con un pronunciamento sull'alluce e la piastra va a finire sul tallone con una forma a coda di rondine. Questo perché? Perché nel trail non possiamo avere una full piastra ovviamente, perché un sasso all'interno e all'esterno del tallone potrebbe piegare completamente la scarpa. La forma appunto di questa piastra ci permette di avere un'ottima stabilità nella parte centrale e mediale e avere un flex individuale invece nella parte del tallone, grazie appunto a questa geometria a forma di coda di rondine. 300 grammi di peso, 219 euro al pubblico, prezzo consigliato. Ha appunto questa piastra in Carvitex che ha la proprietà di essere sia flessibile alle basse velocità, ma di irrigidirsi quando ci spostiamo in avampiede e quindi quando iniziamo a spingere. Quindi è una scarpa molto comoda, adatta per un pubblico medio-veloce e molto confortevole.